Un duro colpo allo spaccio di droga lo hanno inferto i finanzieri del comando provinciale di Napoli sequestrando 22 kg di cocaina purissima pronta per essere distribuita nelle diverse piazze di spaccio della città e della provincia. I controlli hanno fatto centro presso la barriera autostradale Napoli Nord quando è stata fermata un'auto che si dirigeva ad alta velocità verso il capoluogo partenopeo alla guida del veicolo un 38enne dell'Interland che manifestava evidenti segni di nervosismo. Considerate le circostanze con l'ausilio di un'unità cinofila e delle cane antidroga Fagas i finanzieri hanno proceduto all'ispezione accurata del veicolo. Nel vano posteriore 20 panetti di cocaina. Il corriere è stato arrestato e tradotto presso il carcere di Santa Maria Capuavetere la cocaina se messa sul mercato avrebbe fruttato oltre 5 milioni di euro.